bonjour oggi impariamo a parlare della nostra giornata al presente indicativo raccontando quelle che sono le nostre azioni quotidiane le attività del tempo libero e gli sport che facciamo vedremo quindi come fare delle domande sulla giornata e rispondere e raccontare proprio la giornata per fare questo ci servirà il lessico relativo alle azioni quotidiane alle attività del tempo libero e agli sport il lessico relativo ai momenti della giornata e ai giorni della settimana e anche alcune espressioni di tempo per tutto questo lessico vi rimando agli appositi video vediamo come fare per fare domande sulla giornata e rispondere questi sono alcuni esempi di possibili domande e possibili risposte per raccontare ciò che si fa nella giornata qu'est ce tu fais le matin? cosa fai al mattino? le matin je me levo a 7h poi je me lavo e je m'habille ensuite je prends mon petit déjeuner e enfin je vais au collège la mattina mi alzo alle 7 poi mi lavo e mi vesto in seguito faccio colazione e infine vado a scuola in questa prima risposta di esempio abbiamo visto che viene utilizzato il momento della giornata le matin vengono utilizzate le azioni della mattina je me levo je me lavo je m'habille con un orario e anche delle espressioni di tempo per indicare una successione di azioni puis ensuite enfin de quelle heure à quelle heure tu as cours je cours de 8h20 à 13h20 tous les jours sauf le dimanche da che ore a che ore a lezione? o a lezione dalle 8.20 alle 13.20 tutti i giorni tranne la domenica qui si risponde semplicemente da che ore a che ore si ha lezione e quali in quali giorni anche si ha lezione quindi si è usato l'espressione tous les jours tutti i giorni tranne la domenica si poteva anche dire du lundi au samedi a quelle heure tu rentra la maison e comment? a che ore torni a casa e come? inteso con che mezzo di trasporto? d'habitude je rentro la maison a 13h40 en bus scolaire di solito torno a casa alle 13.40 con lo scuolabus anche qui una semplice risposta per dire a che ore si torna e con quale mezzo d'habitude je dejeune avec mon frère et ma mère parce que mon père travaille di solito pranzo con mio fratello e mia madre e poi volendo in questo caso si è aggiunta anche una motivazione perché mio padre lavora qu'est-ce que tu prends pour ton déjeuner? cosa prendi a pranzo? cosa mangi? cosa bevi? je mange de la viande avec de la salade et je bois de lo mineral je mange aussi un fruit ou un yaourt mangio la carne con l'insalata e bevo l'acqua minerale mangio anche una frutta o uno yogurt qui ovviamente utilizzeremo il verbo mangiare il verbo avere con i vari alimenti che si mangiano e si bevono a pranzo qu'est-ce que tu fais l'après-midi? cosa fai il pomeriggio? après avoir mangé je me repose un peu puis je regarde un peu la télé et ensuite je fais mes devoir dopo aver mangiato mi riposo un peu poi guardo un pochino la televisione e in seguito faccio i compiti quindi qui si elencano le azioni che si fanno nel pomeriggio qu'est-ce que tu fais pour tes loisirs? cosa fai nel tempo libero? quindi come attività del tempo libero? j'écoute de la musique j'adore le rock j'y joue aux jeux vidéo et j'y lis des bédés j'aime beaucoup les mangas mais j'ai fais aussi du sport ascolto la musica adoro il rock gioco con i videogiochi e leggo dei fumetti amo molto i manga ma faccio anche sport quindi qui vengono elencate delle attività che si possono svolgere nel tempo libero qu'est-ce que tu fais comme sport? oppure quel sport tu pratiques? cosa fai come sport? quale sport pratichi? se si pratica uno sport si può rispondere je fais du volet faccio palla a volo oppure un altro sport ovviamente se non si fa sport si può rispondere je ne fais pas de sport non faccio sport se si fa sport ci può essere chiesto anche quante volte a settimana facciamo quello sport esempio combien de fois par semaine tu fais du sport? quante volte a settimana fai sport? je fais du sport 3 fois par semaine le lundi, le mercredi e le vendredi faccio sport 3 volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì qui si utilizza una frequenza quindi quante volte a settimana si fa sport ovviamente al posto di du sport posso scrivere anche lo sport che pratico quindi je fais du volet 3 fois par semaine qu'est-ce que tu fais le soir? cosa fai la sera? le soir je dîne poi je regarde un po' la télé e enfin je me couche qui si indicano le azioni che si svolgono alla sera la sera ceno poi guardo un po' la televisione e infine vado a letto qu'est-ce que tu regardes d'habitude alla télé? cosa guardi di solito in televisione? je regarde des films ou des séries televisées j'aime aussi regarder les matchs de foot et les documentaires guardo des films ou delle serie tv mi piace anche guardare le partite di calcio e i documentari a quelle heure tu te couches? a che ore vai a letto? d'habitude je me couche à 22h di solito vado a letto alle 22h vediamo ora come parlare della nostra giornata en continuo quindi raccontando proprio la nostra giornata dalla mattina alla sera la domanda generale potrebbe essere qu'est-ce que tu fais d'habitude pendant ta journée? cosa fai di solito durante la tua giornata? e quindi iniziamo a raccontare le azioni della mattina d'habitude le matin je me lève à 7h io me lave, io me peigne e io m'habille ensuite io prendo un petit-déjeuner io mangio dei biscotti e io boi du lai io vi all'eccolo a 8h a pied mes cours commencent a 8h20 e si terminano a 13h20 io rentre a la maison a 1h30 e io dijeune con la famiglia di solito la mattina mi alzo alle 7h mi lavo, mi pettino e mi vesto in seguito faccio colazione mangio i biscotti e bevo il latte vado a scuola alle 8h a piedi le mie lezioni iniziano alle 8h20 e finiscono alle 1h20 torno a casa all'1h30 e pranzo con la mia famiglia a pranzo mangio la pasta, la carne e bevo l'acqua minerale piccola parentesi ricordatevi che gli orari si possono leggere in due modi l'ora ufficiale quella delle 24 ore per cui leggo 13h30 oppure l'ora colloquiale quella delle 12 ore per cui qui dirò l'1h30 che è molto più usata ovviamente nella lingua parlata per l'ora vi rimando all'apposito video continuiamo con le azioni del pomeriggio l'après-midi, io guardo la tele j'adore le film comiche a 15h, io faccio mes devoirs poi io sorsi con i miei amici due fois par semaine le mardi e il jeudi io giuo voler io m'entraîne con l'equipe de ma ville de 18h a 19h quando io non ho l'entraînement di voler io rentro chez moi vers 6h moins le quart per me goûter io mangio un sandwich e io bobo un jus di fruit poi io giuo ai video poi io serve su internet il pomeriggio guardo la tv adoro i film comici alle 3 faccio compiti poi esco con i miei amici due volte a settimana il martedì e il giovedì gioco a pallavolo mi alleno con la squadra della mia città dalle 6 alle 7 quando non ho gli allenamenti di pallavolo torno a casa verso le 6 meno un quarto a merenda mangio un panino e bevo un succo di frutta dopo gioco a videogiochi e poi navigo su internet Terminiamo con le azioni della sera Le soir a 20h15 je dine avec ma famiglia e je regarde la tele Pour mon diner d'habitude je mange de la soupe e je bois de l'eau minérale Ensuite je lis un livre d'aventure où j'écoute de la musique poi je prépare mon sac à dos pour le collège A 23h je me couche e je dors La sera l'8 e un quarto cena con la mia famiglia e guardo la tv a cena di solito mangio la minestra e bevo l'acqua poi leggo un livre d'avventura o ascolto la musica poi preparo lo zaino per la scuola alle 23h vado a letto e dormo ovviamente questo è un esempio di come si può raccontare la giornata perché poi si possono aggiungere anche altre informazioni à bientôt a a a